Meta ha annunciato il divieto di accesso ai media statali russi, che secondo la più grande società di social media al mondo hanno utilizzato tattiche ingannevoli per condurre operazioni di influenza occulta online. Il divieto segna un'escalation delle azioni intraprese da Meta, proprietaria tra le altre di Facebook e Instagram, contro i media statali russi, dopo aver passato anni ad adottare misure più limitate, come bloccare la pubblicazione di annunci pubblicitari e ridurre la portata dei loro post.